Bella raga! Qua è Rapi! Scusate se sono tipo, sembro un talebano, però fa un freddo che voi non avete veramente idea qua. Comunque oggi siamo qui con questo nuovo video, che sarà un video come leggete dal titolo, un video per il burtone, che praticamente è brattone, ha fatto zitto zitto, no? Ha fatto gli anni, tipo due settimane fa, e io sono qui oggi a fare questo video per trovare il mio best push della game del bosco di YouTube. E quindi volevo fare un video, no? Per lui, davvero amico tenerone. E molti di voi però si staranno già chiedendo, ma scusa, il suo compleanno era due settimane fa, ma perché stai facendo un video solo adesso? Cioè che amico schifoso e infame sei? Tutto sommato non è che ci avete neanche tutti i torti, però ho deciso, diciamo, di fare uscire un video un po' come quando è nato a Bratt, quindi ho deciso di fare uscire un video con un po' di ritardo, così che rappresentarsi anche di più il brattone nazionale. Infatti sono sicuro che lui apprezzerà questo gesto di abicizia. E oggi appunto perché voglio fare gli auguri e intanto voglio anche fare un po' un appello, no? Se c'è qualche tipa che per sbaglio mi segue, che proprio stava cercando Mettebise e ha trovato per sbaglio il mio canale, vorrei fare un appello perché allora il brattone, come sapete, è un po' unlucky, come Jumbo se non di più delle volte, quindi è veramente unlucky, poverino. Due headshot. Ho failato la trippozza. Comunque è molto unlucky il brattone, delle volte anche più di Jumbo e ho detto tutto, direi. E quindi se c'è qualche tipa che mi segue, no? Per sbaglio, perché, cioè, figuro, chi cazzo mi segue, per carità di Cristo, e andate a scrivere al brattone, cioè, concedetevi, fate qualcosa, nel senso, è un bello ragazzo, è simpatico, ha la partner su YouTube, lo fai soldi. Cioè, dai, i motivi di così non potevo darveli, anche perché... Perché, e poi, ah, ecco, altro motivo in più, quest'anno sono 21, ma al prossimo anno sono 22, eh. Con 22 credo di aver detto tutto, eh. Paolone, Paolone 22, Paolone. Quindi, cioè, ragazzi, ragazze, meglio. Perché il brattone non ancora ha deciso di flippare orizzonti, no? Quindi, per adesso parliamo ancora rivolti verso le ragazze. Dovevo farlo su video, dovevo veramente farlo, perché è la persona che mi ha ispirato di più su YouTube, è il grande amicozzo, poi ho anche altri amici su YouTube, ovviamente, però. Vurtone, per me è il vurtone, cioè, raga, non fotti col vurtone della gang. I blosette, baci sul cazzetto di Bratt, e via, si va a comandare. Comunque, tra l'altro, piccolo spoiler, che magari Sisma vedrà questo video e dirà, ah, bella, che magari non gli avrò ancora scritto. Devo sentire Sisma, ragazzi, perché quando ci siamo beccati al Games Week, avevo deciso di magari beccarci per il Torino Comics, che è questo weekend che vi era, appunto, a Torino. Quindi, può essere che se c'è qualche torinese che ha piacere di vederci, o anche solo di tirarci uno schiaffo, noi probabilmente, appunto, saremo lì. Io sicuramente sarò lì, cioè, però, appunto, beh, sicuramente non lo so, nel senso che sono da solo, e se il Sisma mi lascia da solo, non so se vengo da solo in fiera, a random, magari se qualcuno di voi vuole venire in fiera con me, se sono da solo, così ha anche l'opportunità di sgozzarmi un po' per tutto il giorno. E comunque, appunto, se siete di Torino, fatemelo sapere nei commenti. Torino, comunque, Piemonte, quel cazzo che è, no? Perché magari, se avete occasione di venire al Torino Comics, ci facciamo un po', ce la ciliamo insieme, diciamo. Intanto qua, raga, il gameplay sta calando di qualità, di brutto, proprio. Raga, questo video pieno di ignoranza e cazzate, proprio. Lo uso anche per fare degli annunci, diciamo. Degli annunci un po' intelligenti. Così. Oh, ah, così. Quanti cazzo ne ho ammazzati, scusate. Ne ho ammazzati sei con la granata. Cosa? Cosa? Comunque, volevo darvi un po' di informazioni di servizio. Andate a votare, vi lascio il link del video di Jumbo. Andate a votare dicendo che volete il disegno con il disegno di Dax, o il disegno di Dax, o entrambe, in un soldaggio di Jumbo che riguarda una maglietta. Fatemi questo favore, perché io voglio assolutamente prendere la maglietta di Jumbo con quel disegno fatto da Dax, però il Jumbo deve uscire la maglietta con il disegno, sennò chiaramente non si può prendere, no? Allora andate a votare questa cosa qua. Se non l'avete ancora fatta, andate a votare, cazzo, perché io voglio quella maglietta, perché è esageratamente figa. Cioè, voglio girare con Jumbo che fa il PKP Pecheneg sopra la mia maglietta, assolutamente. E sponsorizzare Jumbo in giro, così magari troviamo una tipa per Jumbo tutti insieme. Andiamo tutti in giro con la maglia di Jumbo, il prossimo Games Week, e così lo facciamo sembrare ancora più famoso. Magari qualcuna gliela smolla. Che dite? Può essere una cosa figa, quindi andate a votare per questa maglietta qua, per il PKP Pecheneg, così magari facciamo credere anche a qualcuna che Jumbo ce l'abbia lungo come il PKP. Così è onestamente a posto. E in questo video abbiamo piazzato sia una tipa a Brat che una tipa a Jumbo, così almeno siamo tranquilli, abbiamo fatto tutto. Jumbo ormai non ne ha più bisogno, perché è diventato il pappone di turno, pieno di pussi, pieno di soldi, pieno di cose, insomma. Niente, regà, il video finisce qui. Io vi invito a passare dai miei social, soprattutto Telegram, io vorrei iniziare ad usarlo di più, solo che c'è poca gente che mi segue, quindi diciamo che sono poco motivato. Però se magari passate un po' e fate anche girare un po' il mio canale Telegram, mi fate un favore, così un po' di gente magari mi segue e ce la cegliamo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Bella raga, qua era rapi. Ciao belli.